Un'opera d'arte, se fosse solamente luce, non riusciremmo a vedere niente. E invece già questi pochi casi, in mezzo a questa collina, in questo verde magnifico, ci dimostrano come la luce e le ombre si intrecciano, creando questo dinamismo, questo grande movimento che rende la natura una vera e propria opera d'arte. E l'essere umano da sempre è attratto al bello. La bellezza come l'ultima parola dell'intelletto pensante, perché non si riesce a spiegare attraverso criteri logici, non si riesce a racchiudere in una cornice puramente teorica. Allora, la bellezza come quell'espressione medrante la quale l'essere umano rimane attratto, rimane sedotto e cerca di riprodurre il mistero, questo senso così difficilmente spiegabile. Per comprendere che cos'è la bellezza, per comprendere che cos'è l'arte, come l'essere umano è capace di produrre oggetti e soggetti artistici. Lo chiediamo a Sara Tassi. Sara Tassi ha studiato storia dell'arte, grandissima appassionata di questi temi e soprattutto profonda conoscitrice di quella che è la storia dell'arte italiana e non solo. Tempo di arrivare a casa. Lavassi, faccio la doccia e poi andiamo da lei a sentire che ci dice. Andiamo! Eccoci Sara, io oggi sono stato in bicicletta nelle colline intorno a Genga, paesaggio bellissimo e se fossi capace mi piacerebbe disegnare, dipingere questa bellezza che ho ammirato, che ho visto e che ho condiviso con gli amici che erano con me. La naturale tendenza dell'uomo è proprio quella della rappresentazione. Sì, diciamo che credo che l'uomo nasce con questa volontà all'espressione, che poi sia un'espressione tramite la parola, la gestualità, oppure la rappresentazione di ciò che vede, di ciò che vive, di ciò che sente. Questo poi è soggettivo, d'altronde come poi l'arte è soggettiva, il concetto che noi ne abbiamo di questa. Quindi credo proprio che sia un istinto, una sorta di istinto naturale a cercare di tramandare quello che siamo e quello che sentiamo, sia dal punto di vista intellettuale che poi dal punto di vista emotivo. Ecco, l'arte come la poietica, questa capacità di creare, di rappresentare, di dare forme alla capacità dell'essere umano, ma se dovessimo dare una definizione, che cos'è l'arte? Per arte diremmo che è tutto ciò che cerca di rappresentare tramite dei mezzi, dei supporti e delle modalità espressive, quindi tramite il colore, la linea, ciò che l'uomo vede per l'appunto attorno a sé, quindi diremmo un po' il mondo sensibile, per dirla un po' alla Platone, ma anche il mondo intelligibile, cioè quello delle idee, perché in fondo il senso ultimo dell'arte è anche quello di elevarsi, una realtà che non è propriamente quella umana, ma è una dimensione quasi ultraterrena. Che trascende, l'arte è una forma... Assolutamente, tanto che mi viene in mente Hegel stesso che diceva che l'arte ha il compito di avanzare contro l'uomo fino allo stagio ultimo, il penultimo, anzi l'ultimo è quello della filosofia. L'arte religione e la filosofia. Esattamente, quindi credo che sia proprio un mezzo, una via di comunicazione, un mediatico che l'uomo utilizza per parlare di qualcosa che non riesce a toccare concretamente, ma che sente profondamente. Quindi non si può spiegare, non si può definire un concetto. Sì, è l'inefabilità, quindi l'incapacità di tradurlo in altri modi, se non quello di esprimerlo in questo modo, che è un modo per l'appunto preferenziale, poi a seconda dell'artista che... Ecco, il sorriso di una donna, gli occhi, un volto particolarmente espressivo, cioè l'essere umano come si relaziona alla bellezza? L'essere umano è portato, secondo me, a tendere alla bellezza, in una maniera, credo, imprescindibile, no? Il problema forse è proprio nel concetto di bellezza stesso, perché noi non possiamo avere un concetto oggettivo di bellezza in realtà, e la stessa arte non è oggettivamente bella. Mi viene in mente che la parola bellezza, no? Che deriva poi da bello, in realtà non era altro che etimologicamente un'inflessione diversa del buono. Quindi è come a dire che in fondo è bello ciò che è buono. È perché c'è un rapporto molto stretto tra buono e bene. Direi anche che se il mondo perde il suo fascino per la bellezza, anche l'attrazione per il bene quasi viene meno. Esattamente. Ma questo è un concetto che noi ritroviamo, insomma, dall'arte greca. Pensiamo al concetto del kalos, del kalos, no? Cioè del bello e buono, è imprescindibile il fatto che ci sia una bellezza fine a se stessa, tanto che la stessa estetica non riesce a descrivere una bellezza oggettiva se non in termini di un'epoca, quindi di una realtà, di un contenitore di una bellezza, no? E quindi è molto, molto difficile. Mi viene da dire che anche lo stesso Kant, no? Nella critica del giudizio, no? Parlava di bello, no? Dicendo che poi in fondo il bello, no? Assoluto non esiste. Cioè è quasi un'utopia in fondo, no? Quello di trovare il bello. Cioè il detto normalmente non è bello ciò che è bello, no? Ma è bello ciò che piace. Proprio a sottolineare questo fattore propriamente personale del giudizio estetico che in fondo è anche nell'arte. Quando noi andiamo a vedere una mostra, un pittore, alcune cose ci colpiscono, quindi ci piacciono. E quindi diciamo che quel quadro, quell'artista ha fatto qualcosa di bello, no? O viceversa, non riusciamo a dare un giudizio positivo, no? Perché in fondo la bellezza non è altro che un giudizio rispetto a quello che noi vediamo o sentiamo. Ma ecco, chi è allora l'artista? Perché l'artista è un'elite, sono pochi, con straordinaria abilità, o invece questa forma espressiva che caratterizza l'essere umano, questo bisogno di rappresentare, di comunicare, di trasmettere emozioni, appartiene a tutti e pertanto tutti hanno questa indole a cercare di realizzare il bello. Tutti abbiamo una volontà di realizzare il bello, ma l'artista è colui che lo sa fare, lo sa tradurre, no? Cioè è colui che è Faber, quindi è colui che lo sa creare, no? Ma è anche colui che se ne pone come interprete. Quindi mi viene in mente che il concetto di artista, poi nel corso dei secoli, è cambiato profondamente dall'artista che era in fondo un artigiano della bottega, era colui che aveva l'aperizia assoluta nel fare, fino ad arrivare adesso al concetto di arte contemporanea, dove l'artista quasi è più un filosofo, no? Cioè è un ragionatore della sua stessa arte, del suo stesso furor, no? Del genio, se così vogliamo dire. E quindi è profondamente cambiato questa idea dell'artista. Però io credo che debba coincidere la capacità di utilizzare, di sapere utilizzare i mezzi espressivi con la volontà intellettuale di farlo e la capacità di trasmetterlo all'altro, no? Perché l'arte, se è fine a se stessa, è nulla, è vuota. L'arte viene fatta per una fruizione. Cioè l'artista non crea mai solamente per sé, no? Crea anche per un pubblico, cioè crea anche per un altro che è fuori da sé, ma che in fondo lo rende artista quando lo sente dentro di sé. E il rapporto con la tecnica? Il rapporto con la tecnica è fondamentale quando un artista non è capace, no? Di rappresentare, non si dice propriamente che è un artista per l'appunto. E coloro che sono i grandi sono coloro che sono stati un po' di borderline, no? Cioè coloro che sono andati oltre la tecnica avendole una padronanza straordinaria e una capacità appunto quasi no funambolica di poter creare dal punto di vista materico ma con un bagaglio culturale e anche di significato e di significante dell'opera che la fanno passare nei secoli. Però allora, come si spiega, prima siamo partiti dal sovrasensibile e adesso ricadiamo nel razionale cioè è uno scambio, è una dialettica tra sovrasensibile e razionale l'arte è questo, è coniugare ciò che non si riesce a definire l'ineffabile con una tecnica che per forza deve essere codificata. È come se per esprimere qualcosa io debba avere assolutamente la cognizione di quella causa, no? Cioè io devo avere la padronanza di un mezzo per poter avere la capacità di esprimere qualcosa che è al limite anche con il mezzo stesso. Cioè voglio dire che non esiste l'improvvisazione che noi, no, andiamo tanto a definire così, no? Certo, certo. Tu cur, anche nella nostra contemporaneità. Anche nella nostra ghiacchierata. Esattamente, anche nella nostra ghiacchierata quando crediamo, no, che un artista provenga dal nulla non sia nessuno e abbia fatto qualcosa che poteva fare anche, no? Certo. Si dice molto spesso, il proprio vicino di camera, no? Assolutamente. E invece, no, c'è un percorso, questo percorso che è profondamente radicato sia appunto nella capacità, quindi nella perizia, nella dimestichezza con una tecnica, ma anche nella capacità di dire qualcosa di altro che non è stato detto, no? Nella modalità con cui viene detto. Si è sempre detto che l'arte sa anticipare i tempi. Cioè a differenza di altre discipline che sanno un po' leggere il contesto storico-culturale, l'arte, quindi le forme storiche, espressive, 360 anni, sono quelle che anticipano anche i tempi. Penso appunto al futurismo, penso alle tanti correnti che conosciamo che hanno saputo presagire poi i tempi che si sarebbero verificati con anche le loro strutture storico-politiche e così via. Perché l'arte è una spia anche? Io credo che abbia una sorta di capacità maglieutica, ovvero socratica. Cioè ha la capacità in fondo di tirare fuori l'essere umano in tutta la sua completezza forse. Quando diciamo precorrere i tempi non diciamo immaginare qualcosa che è fuori da noi, ma è la piena conoscenza dell'io, dell'io umano, che poi è un io artistico, per l'appunto come dicevi tu, un io poetante, un io musicante, queste sono le differenze espressive. Però è proprio perché legge all'interno del sé. I grandi sono coloro che hanno riuscito a tradurre il proprio io con la tecnica, cioè fuori la capacità espressiva. Cioè l'ultima domanda, pensate bambini, è il nostro saluto. Che cosa sono i colori? I colori sono... Qualcuno ti direbbe che sono l'arte stessa. Perché non esiste arte senza colore. La stessa tela bianca non è altro che il riflesso di un colore assoluto. I colori hanno tante funzioni, hanno la funzione di creare il proprio disegno, quindi creativa, hanno una funzione strutturale, hanno una funzione emotiva, perché il colore ci rimanda a una dimensione che è più serena, o meno distesa, più angosciante. E il colore è in una sorta di, potremmo dire di definizione, l'alfabeto dell'arte. Il colore ci dà proprio l'idea al di là della forma. Tanto che a volte il colore stesso è struttura del dipinto. Se pensiamo ai quadri, ai grandissimi monocromi mi vengono in mente, di tutta la corrente contemporanea. Bene, io in questa risposta c'è tutto nel frammento. Sara, grazie mille, perché ci voleva un po' di odore, insomma, fra tante chiacchierate si parlasse anche di altre. Grazie mille. Grazie.